ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco magnesio a a cosa serve magnesio a più a un parafarmaco appartenente alla categoria degli inter per la funzionalità cerebrale memoria attenzione conch e l'affaticamento psicofisico è commercializzato in italia dall'azienda apoteca natura spa informazioni commerciali titolare apoteca natura spa concessionario apoteca natura spa categoria di appartenenza integro per la funzionalità cerebrale memoria attenzione conch e l'affaticamento psicofisico forma farmaceutica granulato confezioni magnesio a più 14 bustine granulari 140 g fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato